abbiamo provato con prinsopo persia le sabbie del tempo per fare una serie ed è andata male oggi proviamo con prinsopo persia le sabbie perdute sempre di sabbie si parla dovrebbe essere in italiano normale ma c'era facile e normale prima o magari solo su tutto lato in italiano vediamo dove ti hai mai giocato e questo non me lo ricordo proprio mi ricordo il film ma non il gioco sono quasi sicuro che abbiano fatto il film non vorrei dire cavolato this place is very familiar a chi sei? cosa hai fatto? tu chiede come se fosse un ruffian, un wanderer e non c'erano in questo palace sapete che io sono un figlio di King Shahraman e un figlio di Prince Malik che regola qui in nostro paio non ho venuto qui cercando un'armata mythica sono senti a studiare con mio fratello che un giorno potrei essere un grande leader come lui questo territorio era l'esame di King Solomon per la storia di legenda è un segretario che ci siamo chiamati a proteggere magari questo segretario è il motivo che la fortuna è molto sordata per i migliori Kingdons Malik è stato sentito qui per l'armi potrebbe avere un grande comandante per scurruire gli attacchi ma anche Malik'e fortuna potrebbe non scurruire tutti Amelie! Ci siamo graffiati la faccia! Oh grande, funziona anche bene il pad! Ci diamo abbastanza dentro con gli effetti, eh? 2013 se non mi sbaglio! Ok, schivare la capola! Eh sì, perché giustamente dieci anni in più rispetto all'altro e si vedono pure i primi miei! La grafica è nettamente migliore! R&T sul muro Però non ho capito perché alcune cose sono tradotte e altre no, eh! Allora, vi dirò che per questa meta... non me lo ricordo proprio, quindi evidentemente non credo di averlo mai giocato... e basta! Ma hanno preso penso, no? Mi sa che devo scendere... anche se questa parte mi ricorda un po'... Ma ci abbiamo un culo tremendo, non ci beccano mai! Cioè, viene giù l'impossibile, non è mai niente! E' caduto uno! Ok, mi sa che andiamo giù, grande! Eh no, a me non ci becca nessuno! La pensa che andiamo di muro, eh! Ma forse è meglio andare mai di qua! Perfetto! Non sembra malvagio, eh! Molto 3D anche i personaggi! No, c'ho, abbiamo una mina sul braccio tremenda! Beh, mi sono andato a buttare praticamente in mezzo! Amico mio, quando... ecco! Il calcio in bocca! Non è capito che vuole... Eh, allora, presso tu, dopo! Adesso basta, ho capito cosa devo fare! Dovevevevevi... Ok! Qua dentro non c'è niente! Continuano a lanciarci delle cose infernali! Ah, energia! Pensavo fosse fetture, vero? guarda... Oh... Sì! Sai perché nei giochi i topi non mancano mai! Sì! Allora, jump! Pensa anche qua Molto più chiaro Rispetto a pensieri E' una mazza tremenda E' una traduzione un po' strana Il primo colpo che ci ha beccato C'ha un braccio tremendo Definizione al massimo Aspetta forse qua No non ci curiamo Forse con i bianchi ci curiamo Perché prima ci siamo curati Oh no ma la cura me la lanciano così A botta di massimo Vado giù penso a parlare con questa Ok E vai Mi piacciono tanto le frecce che non ci tristano Vi dico la vita Allora assaltare Così penso Ciao ragazzi Ma ci danno anche i punti Sai io dovrei avere un sacco di punti Più quelli che poi d'altro non manco Neanche Mai consumato Caso che posso ancora recuperare Magari alcune abilità Ma veramente ne tengo una marea Tutti gli assassin creed che abbiamo sbocchiato Aspetta che non ho capito No di qua Scendo Qua c'è una porta No di qua Ok No no Io penso che puoi andare E no Dovevi saltare Mi hai sbagliato Vai Guarda Guarda Fino a fine Ma si è andato benissimo Mi sa che è questa Sì Ok Chi? Non accade se hanno chiuso Una po' Aia È surdo Non c'è Dai che ormai Allora le fecce non ci vedono mai Sono proprio Zero spacchiato Sì ragazzi Non penso ci sia anche il bloccaggio Le porte Non se ne apre neanche una Tipo Questa pensi Di qua Vai Ho detto Le fecce non ci beccano Ok Scendono Ma le fecce È robetta le fecce Ecco Ciao ragazzi Buì Ok Mi dava un po' Fastidio La bandiera Forse Non ho letto Scusate Ok Mi sai che è sbagliato Infatti Sono pure morto Ah ok Serve per camminare Frecce non ci beccano mai Da qua ti sente Secondo me Giustamente Giustamente Perché provarci Ok Francamente Mi dico Il percorso È molto più semplice Del Ecco Appunto Siamo morti Non ho capito Se ho sbagliato Ah Devo andare in alto Vedi Frecce Probetta Ah forse qui Mi avrebbero potuto Prendere Forse però Ecco mi sa Questa era una tendenza Proprio Io mi lascio pure Ma poi se cadiamo Vai 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 Ringo Vai Ok Devo aprire questa No Mi sono fissato Che devo aprire quella Invece non si apre niente Calcio in bocca Bello la potenza Anche questo Fa la potenza Mi do una mazza Ok Allora Di qua Ok Oh mamma mia Ho fatto un salto tremendo A volte fa dei salti Chiesi così Ok Continuiamo ad arrampicarci Vai Abbiamo scherzato I vasi Ok Oh Aia Ah di qua Ok Grande le frecce No ce la fai a saltare Vai Perfetto Vai No Di qua No di qua penso Ok 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 Si Si Penso di andare in alto Si Malik Malik Is this how you welcome family? Ho Ho You've picked a bad time for a visit I would have said you've picked a bad time for a war Ok Well Next time I expect you I'll tell my enemies not to invade It's fortunate you're there We need this gate open The mechanisms are on those towers Once you activate them all the gate will rise I assume Since you've got yourself up there it won't be a problem Not at all Good And then get down here quickly I don't want to tell our father you were injured while in my care Ah 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 you'll care Quickly now Non ho capito una mazza eh vi dico la verità Allora meccanismi quindi sarebbero questi qua secondo me Uno A tempo eh si va a ver Ce la facciamo? Hurry and get down here There's no way down Go on I'll meet you The vault Head to Solomon's vault Solomon's vault? What's he planning? Eeeeeee Che faccio? Torno indietro? Per forza Allora di qua penso forse Allora solo diciamo di qua? Non penso ci sia una mappa una cosa però Intuitivamente andrei di qua Poi magari sbagliamo Ma non credo No è da l'altra parte lì andrà bello Oh parca Oh questo va più forte Ok 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 Va bella Ah è una mossa Ah quindi abbiamo anche la combo Ma come? Ma come? Ah Ah di qua Vai Uh 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 Allora Io can C'è una stacca Fino a 5 attacchi Uh uh ragazzi Uh 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 avuto ok ti vedo male ragazzo avuto ma il sistema di combattimento non è male dai guardate che c'è 10 anni spero c'è credo che sia già rapido 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 non ce la farò mai non sono molto veloce ma non è il punto di vino vero no 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 non credo no non credo ah questo è proprio ok guardate Ok Sai che doveva andare da sopra Non ho capito chi è che si sta Menando Vabbè avevo fatto la preparazione Allora Allora se è un po' Ok Qui danno veramente Ah ok qua Perfetto La prospettiva un po' ingannava Ma sto quasi schiattando penso Sì Quindi vediamo Ok Porta miseria Ho un po' etagerato Forse devo scendere un po' di più Mi serve una Qualcosa Non ci possiamo curare Quindi combattiamo bene Perché qua moriamo Ecco appunto Ehi vabbò Sto cercando di non farmi beccare Ecco appunto Oh ce lo siamo chiamati Ma secondo me qua Ho una piccola energia Ah Allora devo rompere i cosi Per l'energia Ok Allora raga Andiamo E basta Ok Ottima Il calcio è ottimo Perché in pratica È una lontana Venturdici Praticamente E vai Ma ne arrivano Un po' troppi No Non mi siete messi tutti quanti Ti ho dato Ancora questo Beh Allora mi sa che Devo rompere un po' di vasi Ok Ok da sopra però Scassa qua Diamoci un po' di energia Eh Direi perché Se no praticamente Ogni volta che Perfetto Allora Se ho capito bene Andiamo in alto I pali E poi sinistra E poi sinistra No Ok Basta da l'altra L'altra parte Dall'altra parte Vai Ok Vai Perfetto Allora Allora Solo jump Bene Bello Questa Mi piace Solo jump Solo jump Solo jump Solo jump Bravissimo Ok 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 Ma Perfetto Lo trovo Abbastanza Divertente Perfetto 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 Che ho sbagliato la grande Maiore La terra Penso che sì Oro Oro E Tovi Ok 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 Sono fatto No Ma che cazzo Di due di merda Ci ha detto Questo l'ho fatto Intuitivamente E poi moriamo Così Eravamo andati bene Ce l'avevano fatta Rompi pure questo E' giusto che ci troviamo Dovrei andare Al massimo Mi sa che forse Ok Ehm Ma sì Ok Ehm Jump Dove Riqua Ah Vi state fregando I diamanti Preghiamoci Oggi Se il paolo davanti Non vedo una mazza Allora Il sistema di combattimento E' impegnativo E' impegnativo Che peccato Queste cose Questo Tutti a terra Sì Vabbè ragazzi Io penso che questa parte La possiamo terminare qui Ci vediamo Una prossima prossima Ciao Bye